benvenuti a questo nuovo video io sono francesco e oggi siamo ritornati sulla serie sgp di minecraft ragazzi oggi siamo ritornati ripeto sulla serie sgp di minecraft e andremo a cercare un altro sgp ragazzi io lo dico sempre ogni video se non volete volete che non c'è non volete insomma che vi perdete nessun video mio dovete iscrivervi al canale attivando la campanellina soprattutto attivando la campanellina quando vi iscrivete mi raccomando e comunque e andremo a cercare un altro sgp e ragazzi non voglio che vi perdete nessun video quindi che perché se l'ha perso non è iscritto il mio canale e attivate la campanellina se lo vado a vedere andate andando a cercare sul mio canale vabbè ragazzi che dire e oggi andremo a cercare ancora di nuovo lo ripeto ancora un'altra volta le altre sgp e dire di andare dai ok eccoci qua ragazzi le sgp di oggi la verità non mi ricordo dov'era voi cavolo dove erano le sgp di oggi ma che ci penso ragazzi aia oddio che ha un ragno maledetto la stanche aiaia ma quanti mob maledizione muori scheletro muori ho il mio p90 qua ok sono morti tutti e possiamo andare ragazzi eh aspettate cavolo dov'era le sgp di oggi ragazzi non me la sto ricordando mannaggia la miseria mannaggia era tipo da queste parti da queste parti forse no non poteva essere da queste parti forse no aspettate forse questo forse è questo vediamo 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 sì ragazzi questo ho fortuna l'abbiamo trovato vabbè buttiamoci ragazzi sì eccoci qua adesso ragazzi dobbiamo entrare qua così apri sta maledetta porta ok 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 aspettate ancora apriamo qua vado quante porte ok ragazzi almeno tre mi giro e vedremo che sgp sarà per oggi numero 087 ok 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 ragazzi sgp 087 classe euclid e so cos'è ragazzi adesso vi spiego che per quelli che non sanno cos'è sgp 087 adesso ve lo spiego sgp 087 è una scala una scalinata che è profonda molto profonda molto profonda e si dice che è come vi posso dire dentro la scala non c'è riuscito nessuno cioè praticamente questa scala è molto profonda scusatemi sto dicendo questa scala è molto profonda e all'interno di questa scala se scendete fino alla fine c'è un mostro orribile ragazzi è bruttissimo ha un sorriso con delle gengive proprio proprio rosso sangue ha degli dei denti gialli dio è tutto nero ragazzi e agli occhi bianchi e si dice che questo mostro ha così ucciso tante tanti class ed infatti ragazzi è un class edile è stato concesso di scendere una scalina la scalinata di questo sgp solo che poi il class edile quando è arrivata alla fine l'ammazzato sto mostro quindi ragazzi e questa scalinata è profonda e anche molto pericolosa perché l'interno c'è un posto vabbè ragazzi che dire al mio 3 interiamo nella cella 1 2 3 ok ragazzi ecco la scalinata ok scendiamo ragazzi ok di qua di qua ragazzi questa scalinata è profonda si dice ancora altre scale basta scale di nuovo scale oddio 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 ragazzi chi è quello ragazzi quello è il mostro quello che vi stavo parlando portatelo oddio ragazzi ma già abbiamo raggiunto la profondità strano ma sta scale molto profonda sta scalinata si dice perché l'abbiamo già raggiunto la profondità vabbè ragazzi comunque c'è il mostro ragazzi è girato è tutto nero ragazzi voglio vedere la sua faccia e ragazzi non sembra che non mi sta facendo niente ma ragazzi sembra che sta interessando qualcuno ragazzi al mio 3 d'attacco 1 2 3 ragazzi però sembra non colpirmi ragazzi oddio che faccia brutta che ha ha una faccia bruttissima ragazzi veramente la faccia bruttissima oddio 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 ragazzi ma c'era con qualcos'altro come mai c'è ragazzi c'era con qualcun altro scusate ma guardate ragazzi se lo picchio sembra che non si interessa di me crede che ce l'ha con qualche altra cosa sentite ragazzi se lo provo a spararlo col p90 vediamo che succede penso che mo si arrabbia vabbè ragazzi io lo sparo col p90 3 2 1 oddio ragazzi si è arrabbiato ragazzi 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 si è arrabbiato si è arrabbiato sali 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 ragazzi appena l'ho toccato col p90 apri 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 sta porta apri sta porta apri no 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 apri apri ho detto apri no ragazzi sto per venire apri apri chiudi chiudi oh mio Dio ragazzi mi ha fatto 5 cuori di danno ragazzi mi ha lasciato non lo so era tipo 4 cuori 2 cuori non lo so è fortissimo ragazzi che buono cioè era interessato a qualcos'altro ce l'avevo con qualche altra cosa tipo con un villager non lo so e appena l'ho attaccato col p90 ragazzi cioè si è arrabbiato si è arrabbiato proprio bestiale oh mio Dio ragazzi direi di rientrare vediamo se dove sta rientrato quel mostro maledetto della scalinata aspettiamo andiamo ragazzi io per sicurezza tengo il p90 in mano ok eccolo muori 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 ragazzi che brutta faccia che ha no no Dio no no non ci credo sono morto scp087 cosa? scp087b ah ragazzi quello è il B ragazzi è il mostro quello là della scalinata ragazzi si lui mannaggia cioè ragazzi mi ha ucciso ma poi fa un sacco di male ragazzi e poi la scalinata come avete visto tutti non era cioè non era molto profonda boh non lo so ragazzi si ragazzi però avete visto anche voi non era molto profonda come me l'aspettavo però un bel po' di scale c'è ma vabbè ragazzi ragazzi dobbiamo rientrare e dobbiamo cercare non lo so ragazzi di fare qualcosa immediatamente se no ragazzi proviamo a fare un test con lui facciamo il test non lo so di cosa succede se se non lo so che test possiamo fargli ah è vero ragazzi dobbiamo provare una cosa prima con lui se si può uccidere io spero ovviamente di sì ragazzi vediamo se lo possiamo uccidere sto mostro qua della scalinata che va ragazzi sta scalinata dovrebbe essere buia però non è buia perché la profondità è scura proprio oh no 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 muori muori maledetto muori non ti azzardare ragazzi mi lascia tre cuori con un colpo vi rendete conto è fortissimo non ti azzardare muori quanta vita ha ho un sacco di vita muori ma vuoi morire muori ragazzi ma ho un sacco di vita ma muori ragazzi io continuo a spararlo all'infinito finché non muore sperando sempre che muore muori maledetto quanta vita ha ho un sacco di vita che poi ragazzi guardate che fa oh è morto è morto guardate ragazzi ha scalinato tutto il vino di proiettile perché ovviamente io stavo continuando a spararlo un casino però ragazzi è morto oh mio dio sì ragazzi è morto che poi ragazzi avete visto che faccia brutta che aveva aveva una brutta c'era proprio come il fascicolo e praticamente si vedeva la cosa rossa che sarebbero le gengibbe e tutta la cosa gialla che va dentro sono tutti i denti e ragazzi l'abbiamo ucciso penso che ce ne possiamo andare no? sì dai ragazzi andiamocene però ragazzi mi sta dispiacendo che sto video è durato poco vabbè e ragazzi che dire l'SCP di oggi veramente io ragazzi sto scalinata prima di andare di concludere il video e sì ragazzi perché devo concludere il video ovviamente e sto scalinata SCP 087 vi dico che è anche uno tra i più famosi ragazzi questa scalinata scusate se non ve l'ho detto prima ma è uno tra gli SGP più famosi vabbè ragazzi io che dire spero che questo video vi sia piaciuto scusatemi te ne ho il singhiozzo comunque sto dicendo spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al mio canale per non perdere il suo video e noi che dire ragazzi ci vediamo al prossimo video della serie SGP di Minecraft ciao ragazzi ciao ciao